Allora, serata a grande richiesta, sera abbiamo Lorenzo Costa. Ciao Lorenzo! Ciao, ciao a tutti e a tutti! Allora, a grande richiesta perché abbiamo fatto un paio di video, ci sono venuti a trovarti una volta e ci hai dato così tante informazioni, ci hai fatto vedere il posto che coltivi che la tua azienda agricola Lascoscesa e ci sono stati una marea di spunti che abbiamo raccontato in due video diversi che hanno veramente suscitato parecchio interesse e anche parecchie domande. Quindi, a grande richiesta in questo senso, cercheremo un po' di rispondere alle domande, insomma, ai temi che abbiamo capito essere di interesse, approfondiremo con le domande che ci faranno stasera e raccontiamo, insomma, anche ci raccontiamo le cose che non siamo riusciti a dire in quei video, insomma. Tutto questo in un'ora, no, insomma, non so se ce la faremo. Lorenzo, torneremo a trovarti alla fine, questo sarà quello che faremo, te lo dico subito. Allora, un saluto a tutti quelli che già si sono collegati, vedo che c'è un sacco di gente. Ciao Andrea, saluto gli amici, Andrea, che è il nostro grande aiuto preziosissimo all'interno del canale Telegram, gruppo Telegram, sbagliato, va bene, Filippo mi riprende sempre. Ciao a Chiara, che è una nostra amica, c'è anche Tommaso, insomma, saluto tutti. Dai, ciao, ciao a tutti. Allora, ripartiamo dall'azienda di Lorenzo, che si chiama La Scoscesa. Abbiamo raccontato, insomma, questo posto, l'abbiamo soprattutto fatto vedere. La Scoscesa, anche se non avete visto i precedenti video, già vi dice, insomma, cose importanti sulle caratteristiche di questo luogo, che sta tutto in discesa, ma ha proprio un bel dislivello. E questo, insomma, comporta delle compliegazioni, ma che se gestite bene diventano anche dei vantaggi. Quindi un po' ritorniamo a parlare di questo. Lorenzo è anche un permacultore, una vittima della permacultura, possiamo dire, anche lui, no? Quando è che ti è cambiata la vita, Lorenzo? Nel 2015. Nel 2015, sì. È anche l'anno in cui io ho fatto il mio corso di permacultura. Un anno importante, allora, per molti di noi, insomma. Allora, partiamo da una battuta. Ieri abbiamo visto, tu e anche i tuoi social, ai Facebook, ai Instagram, quindi ti possono seguire. Lì, tra l'altro, fai un sacco di consigli, fai delle vere e proprie lezioni su vari temi, appunto, legati alla permacultura e alla gestione dell'acqua, che è uno dei temi che ti stanno più a cuore. E ieri abbiamo notato questo post, quindi partiamo da lì, no? Ci facevi vedere un libro, tu sei un grande appassionato di libri, lo vediamo dalle tue spalle e lo vediamo poi, lo vediamo anche perché parleremo anche del crowdfunding che hai aperto, che ha proprio come scopo quello di aprirti una biblioteca, insomma. Hai da gestire un bel po' di cultura che riesci a trasmetterci, perché poi tutte le cose che tu leggi le riesci a raccontare. Ho perso, allora, ripartiamo da quel libro, un libro che parla di dei problemi, uno dei problemi principali di questo momento storico, che è appunto l'acqua, la siccità che aumenta, ma anche tutte le conseguenze che una cattiva gestione dell'uomo, del territorio, delle risorse idriche ha portato. E allora, dicevi, questo libro ce l'avevo da tanto, ieri hai fatto un post, racconta tu, ce l'avevo da tanto e non l'avevo mai letto, perché? Ce l'avevo da tanto e, allora, non l'avevo mai letto perché? Nella quarta di copertina, la descrizione del libro era, questo libro parla della desertificazione, dei problemi che stiamo causando e soprattutto dedica tantissimo spazio, era questo che mi aveva colpito, sui problemi dei nostri consumi, su tutta l'acqua virtuale, di quello che è la moda, i vestiti, la produzione del cibo. E sta cosa a me deprimeva, cioè nel senso proprio, lo trovavo, perché sono tutte cose che, per passione mia, per cose ho già letto e so, e leggerne un altro dico, no, io non ce la faccio. Poi c'è un motivo per cui l'ho iniziato a leggere qualche settimana fa, perché in realtà poi io spesso, se ho la possibilità, compro l'edizione inglese, l'edizione italiana di alcuni libri, perché provo il progetto di biblioteca, di cui magari parleremo, tendo ad avere tutta una serie di titoli. E mi capita il libro in inglese, dallo scaffale lo guardo e vedo la quarta di copertina, ed era completamente diversa. Diceva, questo libro è un libro ottimistico. Dico, ma come un libro ottimistico? In italiano dicono, è un libro, cioè, in cui ci dice che facciamo schifo, consumiamo un sacco d'acqua, il mondo sta morendo. Ha detto, fammelo leggere. In realtà ogni capitolo ti dà una lettura del problema, però ti condivide poi anche le soluzioni. E questa cosa qui mi ha fatto riflettere, no, sul fatto, uno, vabbè, sull'editoria italiana, che giustamente molti commenti anche su Instagram, sotto al post sono stati, vabbè, però non è l'autore. Infatti ho detto, no, no, non è l'autore. Il problema è l'editore. È l'editore che pensa di spingere un messaggio in un certo modo piuttosto che in un altro. E quello è il vero dramma, se vogliamo, no? Perché noi oggi siamo, non sembra, ma in realtà sta diventando sempre più mainstream il fatto che ci stanno dicendo che ci sono tantissimi problemi legati a desertificazione, a problemi sull'acqua. Poi quello che spiegano magari è spiegato male, però ogni giorno ci viene detto che ci sono determinati problemi, no? O ci viene descritto un problema di nevica e la neve è la neve peggiore che ci sia mai stata negli ultimi vent'anni. Grandi nella grande, nella più. Cioè è tutto sempre esagerato. Noi oggi abbiamo bisogno di soluzioni. Noi oggi abbiamo però bisogno di dare, sì, dare voce a quei problemi, cioè spiegarli, ma spiegare al momento stesso le soluzioni. E secondo me questa cosa qui è in realtà un qualcosa che chiunque di noi sia progettista in permacoltura sa bene. Cioè è una cosa che chi ha un minimo di formazione in progettazione in permacoltura già riesce a dare questa lettura, no? Però ovviamente spesso quando noi andiamo poi a parlare, a comunicare, a condividere sui social o comunque facciamo divulgazione, in realtà parli a tante persone che non hanno magari fatto quel percorso e quindi non hanno quelle chiavi di lettura che come progettisti e progettisti abbiamo e io penso a quello che va a una libreria, a comprare quel libro, lo vede, lo legge e dice, cioè lo guarda alla quarta copertina e secondo me lo rimette sullo scaffale. Certo. Soprattutto se è una persona che ha voglia di fare qualcosa non tanto di stare a piangere sui problemi che ci affliggono, insomma. Esatto. Che è quello che fai tu, no? L'hai fatto nella tua scoscesa di cercare le soluzioni e i problemi che avevi, poi lo fai anche andando in giro, insegnando agli altri e quindi affrontando anche territori diversi dal tuo. Quindi magari stasera parliamo di una situazione come la tua dove appunto il terreno ha questa forte pendenza, ma parliamo anche delle situazioni di pianura, visto che io ho una pianura. È già arrivata una domanda, ci chiedono come si gestisce l'acqua nei territori piani, quindi ti chiediamo anche di approfondire questo. Allora, rifacciamo un piccolo punto insomma sulle prime soluzioni che abbiamo riguardo al problema dell'acqua, che è gestire gli eccessi meteorologici, quando arrivano questi nubi fragili dove arriva molta acqua tutta insieme, magari dopo un periodo di forte siccità e questo crea dei problemi a volte addirittura che portano a disastri, insomma, incidenti anche con morti e si ha invece l'altro problema che è invece non avere più abbastanza acqua a disposizione perché non piove con continuità e le falde non si riempiono, quindi anche i pozzi sono sempre più in basso, sempre più difficili da raggiungere. Allora, spieghiamo alcuni aspetti perché sì, io sono partito, diciamo dall'esperienza mia, dalla scoscesa, io sono partito da una condizione di forte erosione proprio per il tipo di dislivello che avevo, in realtà quello che noi abbiamo oggi, quindi ho costruito la mia esperienza proprio partendo da questo aspetto qui, e la prima cosa ho voluto risolvere, in realtà quello che noi abbiamo oggi è che c'è un cambiamento nelle modalità in cui l'acqua precipita, gli eventi piovosi, cioè le precipitazioni sono cambiate, sono molto più raggruppate in periodi molto ristretti, se vogliamo. Ne parlavo ieri con amiche e amici in Piemonte, dove da loro in realtà non sta ancora piovendo, mentre qui abbiamo un po' recuperato in Toscana, su da loro meno. E c'è questo problema di come intervenire, perché dobbiamo gestire sempre più dei fenomeni estremi. ci sono tante modalità, e ci sono tante modalità, secondo me, e forse nel video non l'avevo spiegato bene io, perché è un video appunto che ha un tempo preciso, però ci tengo a precisarlo, dobbiamo sempre partire da un presupposto, dal contesto specifico in cui siamo, cioè io ho adottato determinate soluzioni nel mio contesto, se dovessi andare a fare una consulenza o visitare un altro progetto, dovrei comunque partire da quel contesto paesaggistico, geologico, il tipo di suolo, il tipo di precipitazioni, cioè per cui vanno tarate, non diciamo che non c'è un copia in colla che si possa fare, ok? Sostanzialmente è questo qui, giusto per chiarire, per porlo, perché poi ho ricevuto appunto tante domande, ma anche in privato sui social, ma tu hai detto bisogna fare così, da me è inutile fare questa cosa qua, non è un assoluto, però sicuramente noi dobbiamo imparare a rapportarci con l'acqua, cosa che secondo me oggi non sappiamo fare, non lo sanno fare per bene le istituzioni, perché c'è una visione sull'acqua che è molto secondo me impoverita, impoverita nel senso che se io faccio il parallelo, immaginatevi una falda, ok? Ecco, noi oggi riguardante l'acqua siamo impoveriti, è come se la nostra falda interna si fosse prosciugata, noi non siamo più in grado a comprendere l'acqua, noi dobbiamo proprio imparare un linguaggio, dobbiamo imparare, se chi lo vuol vedere in modo più spirituale, dobbiamo imparare a riconnetterci con l'acqua, no? Lo possiamo definire o declinare in mille modi, la verità è che noi dobbiamo imparare di nuovo a connetterci con l'acqua e a riuscire a capire che cosa ci sta dicendo, cosa che noi oggi non sappiamo fare e non è una cosa che le istituzioni sono, dal mio punto di vista, dico sempre personalmente, non è che sono cattive, è che sono fatte da persone che vivono in questa società, vivono con questa cultura e non è un caso che siamo tutti impoveriti, siamo tutti prosciugati, siamo tutti desertificati, ma si può risolvere, anche culturalmente, io dico. Ok, quindi è un lavoro che dobbiamo fare innanzitutto su noi stessi e sulle nostre conoscenze e poi abbiamo spiegato, insomma tu ci hai spiegato le tre regole, le tre parole chiave, no? della gestione dell'acqua, ce le puoi ricordare per chi magari non ha visto gli altri video che naturalmente poi invitiamo ad andare ad approfondire. Allora, i tre concetti, le chiamo le tre etiche dell'acqua sono rallenta, distribuisce e infiltra. Questi tre concetti, queste tre parole, io l'ho, diciamo, anche un po' sintetizzate dal lavoro di un, in realtà, di un progettista in permacultura che lo dico qui proprio disclaimer, mi dispiace, ma lui non se ne sarà avuto a male perché non lo saprà, però non ho citato nel video e non è stato nemmeno un taglio vostro, non l'ho proprio citato, non lo so, dimenticato del giorno, che è Brad Lancaster. Brad Lancaster è un progettista in premoltura e si occupa di acqua e vive in Arizona, negli Stati Uniti e lui ha definito otto principi di progettazione, no? Da cui poi io ho desunto questi tre concetti di rallenta, distribuisce e infiltra. Sostanzialmente sono otto chiavi di lettura, linee guida, sono dei principi progettuali, così come noi abbiamo i principi di progettazione, anche se vogliamo, comunque dei principi in permacultura, lui li ha fatti specifici per l'acqua, per cui sono delle linee guida e sostanzialmente, per citarne solo alcune e far capire, si parte, il primo principio è parti da una lunga e ottenta osservazione, lui è un progettista in premoltura, quindi ovviamente parte da quello. Secondo principio è parti dal punto più alto del tuo terreno, del tuo sito, della tua area. Cosa vuol dire? Non vuol dire necessariamente fare una raccolta d'acqua e provana nel punto più alta, ma vuol dire che partire dal punto più alto è capire come l'acqua scende in un terreno, come si muove, perché scendere può dare l'idea sempre del dislivello, muovere è più su un discorso piano e poi ne parleremo di pianure. Quindi è capire come l'acqua scende e come si muove, perché? Perché una volta che l'acqua è arrivata in fondo, costa energia ripomparla in cima, per cui se io parto anche dalla cima, consumo meno energia. Ovviamente a me è capitato una volta un progetto in cui non c'era la possibilità di partire dall'alto, cioè noi dovevamo raccogliere l'acqua in fondo al terreno, punto, non c'erano altre possibilità, per come era quel terreno non potevamo intervenire dall'alto, potevamo però cominciare ad osservare come l'acqua si muoveva dall'alto e poi realizzare dei sistemi di gestione dell'acqua piovana in basso, per cui va sempre un po' tarato. Gli otto principi, non elencarli tutti, il quinto mi sembra sia, lavora sempre con una copertura del suolo, perché la prima cosa, la prima, il primo sistema di gestione dell'acqua piovana è avere radici, è avere piante, è avere il suolo coperto, perché non ci rendiamo conto quanto l'acqua quando cade su un suolo nudo, senza copertura, senza, nemmeno la pacciamatura, senza proprio piante vive, erbacee vive, o anche striscianti, no, sul terreno, quanto l'acqua faccia danni. È incredibile se uno va a cercare l'effetto splash di una goccia d'acqua sul suolo nudo, particelle di suolo possono essere lanciate a quasi 10 centimetri di distanza da una goccia, cioè perché come la goccia cade sul suolo, lei fa questo effetto splash che tutti avevano presente. Ha una forza che non ci immaginiamo, molto grande. Esatto, esatto, e l'ultimo principio che mi piace citare, poi gli altri li potete andare a cercare, anzi forse ho messo un post proprio su Instagram in cui l'ho messo, per cui sono tradotto in italiano, l'ultimo principio qual è? Rifletti sempre sul tuo progetto e accetta il feedback sostanzialmente, che è un principio della progettazione in permacultura. E cosa vuol dire? Che riparti dal punto uno, dal principio numero uno, cioè riparti con un'osservazione lunga e attenta. Io posso dire che ho impostato nel 2015 quando ho fatto il corso di permacultura la gestione dell'acqua piovana alla scoscesa, in realtà è stato un processo che si è evoluto nel tempo, cioè dal 2015 ad oggi è cambiato costantemente e si sono aggiunti sempre pezzi, perché ogni volta vedo quel piccolo punto che manca, piove di più e vedo che l'acqua si comporta in quel modo e quindi lo riaggiusti, che è una cosa per noi, chi fa progettazione di permacultura è anche normale, è il feedback loop, è il fatto di accettare il riscontro. Ok, guarda, allora ti voglio leggere i saluti perché tu non li stai vedendo di Aieie, aspetta, Brazor, che è un'assicitazione, va bene, comunque è un tuo appassionato studente che ha detto non esiste un piano in natura, ho fatto bene i compiti a casa? Hai fatto bene i compiti a casa, non esistono i terreni in piano, nel senso, io mi ricordo una volta una mia amica che sta a Ferrara mi dice ho il terreno in piano, su tre ettari che erano mi sembra il pezzo che era diciamo dove ci sarebbe stato il dislivello erano 500-600 metri, la differenza di dislivello in 500-600 metri era di 30 centimetri, se io cammino mi sembra in piano ma in realtà l'acqua si muove, cioè l'acqua si muove con una pendenza minima, l'acqua comunque scorre sempre, l'acqua vuole sempre andare verso il mare, per cui non esistono i terreni in piano, quello che tu fai con un terreno in piano lavori sul distribuire quell'acqua sempre più possibile sul terreno, ok, ma in realtà dipende perché potresti avere l'esigenza invece di raccoglierla in alcuni punti, quindi non è che la vuoi distribuire per forza lungo tutta la lunghezza, e poi lavori su sicuramente il fatto di valorizzare tutti i punti di accumulo che possono essere strade, cioè perché bene o male su un terreno in piano tu non avrai scorrimento per cui dici posso raccogliere in un canale, però quando hai specialmente se stiamo parlando di superficie di un pascolo o di un terreno inerbito in piano è ancora meno coefficienti di scorrimento c'è ancora meno acqua che scorre per cui l'acqua si infiltra che è già un bene di suo per cui già dovremmo essere tutti contenti però se tu avessi lì la cosa che io consiglierei è di guardare se ci sono superfici dove l'acqua scorre che possono essere le strade spesso ci dimentichiamo quanto una strada di campo una strada diciamo di terra battuta sia una superficie dura che fa scorrere e raccoglie tantissima acqua e quindi lì si potrebbe valorizzare e poi lì dipende io sono sempre più convinto poi sembra sempre che io salti dei pezzi quando io parlo di acqua e se girassimo la pagina stiamo parlando poi di alberi stiamo parlando poi di arbusti stiamo parlando di agroforestazione noi magari ci soffermiamo su un aspetto ma uno dovrebbe aprire l'enciclopedia del bosco di Ogigie e guardarsi tutti i video perché se li metti in fila cioè tu guardi il video sull'acqua ma poi se ti guardi quello sul sintropico sull'agroforestazione e stai unendo i punti cioè noi magari spezzettiamo per una questione comunicativa è ovvio però in realtà c'è una complessità dietro ai discorsi che si fanno che uno tocca un aspetto ma in realtà ce ne sono tanti altri collegati perché su un terreno in pianura io consiglierei di lavorare tantissimo su agroforestazione quindi alberi ok perfetto allora adesso intanto saluto il lince che ha fatto una battuta simpatica anche la montagna vuole andare al mare assolutamente mi sembra carina allora Filippo non so se prima di vedere un altro commento ah ok Filippo questo è di Filippo il commento quindi guardate i video unite i puntini allora prima di vederci il video di Lorenzo ti chiedo di rimettere l'immagine del Bosco di Ogigia ce l'abbiamo il Bosco di Ogigia dall'alto così ci facciamo fare subito una diagnosi perché noi abbiamo dei pezzettini due ingressi che sono anche i punti dove entrandoci con le auto e con i mezzi compattiamo il terreno e sono anche i punti dove un po' di fuga dell'acqua e ancora abbiamo tentato in vari modi ma ancora qualcosa sfugge noi non vorremmo mandare nessun rivoletto d'acqua dal nostro campo nella strada che si vede là vicino ecco e quindi stavo pensando in base appunto a quello che ci stavi raccontando anche a quello che abbiamo visto da te se c'era modo per esempio di inventarsi un micro bacino che trattenga l'ultimo tratto insomma allora se tu hai acqua che fuoriesce dal tuo terreno e va nella strada assolutamente un canale di diversione cioè che diverge dalla cura di livello non so se tu la stai vedendo l'immagine adesso la stai vedendo? sì c'è un fermo immagine ora ok perfetto allora proprio a destra a destra in basso a destra lo vedo c'è un si vede che c'è un ingresso e non c'è neppure più l'erba perché è talmente compattato lì parcheggiamo sempre ok quello è un punto di fuga e da lì ti esce l'acqua e va sulla strada? sì allora lì io farei un canale attraverso quella strada lì dove tu parcheggi perché vedo che c'hai delle siepi ai lati che ti fanno il confine ok fai un canale appena prima di quelle siepi che va verso le siepi e poi lo riempi di di sassi fai quello che si chiama french drain che sarebbe una sorta di french drain sì i drain lo scarico lo scarico alla francese non so perché si chiami così però praticamente cosa succede se tu questo canale in più il fondo del canale lo fai che a cunetta che diverge verso le siepi tutta l'acqua che arriverà lì incontra le pietre siccome le pietre poi lo riempi tutto di pietre quindi diventa comunque un piano tu ci puoi passare sopra non è che inciampi però l'acqua infiltra fra le pietre quindi pietre grossolane non sassi non sassine non ghiaglia sì 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 ok pietre grossolane quello lì quel french drain ti porterà l'acqua alle siepi e quindi ti porterà l'acqua lì e quindi non la perderai e almeno le piante accanto alla strada avranno un gli crescerà una chioma così perché avranno più acqua rispetto a lei ok una porzione in più di acqua che tra l'altro sono anche quelle più sofferenti probabilmente perché c'è l'effetto contrario in questo momento e rimangono le più asciutte dovrebbero diventare ok dai Filippo abbiamo una missione da compiere ok dai vai con il video perfetto raccoglie l'acqua ora è figata si riempie bacino raccolta e poi il canale con la pendenza perfetto guarda come scorre bellissimo Valerrova raccolta dell'acqua piovana all'asco scesa mitico wow eccoci la gioia vera di fronte al risultato raggiunto insomma ma quella lì è la gioia vera perché quello è stato quello lì ancora oggi diciamo che i nostri bacini hanno tutti un nome quello lì si chiama ancora il primo bacino cioè non sono nomi originali si chiamano Alfredo cioè quello lì è il primo bacino perché quello è stato il primo che si è realizzato e si è scavato a mano perché l'escavatore non riusciva a entrare perché è stretto lì un po' in salita e c'era la felicità vera sì perché era aprile l'avevamo appena finito poi l'abbiamo in realtà approfondito di più per cui è più grosso ora cioè più profondo non è tanto più largo e in quello lì credo fossero 45-50 minuti di pioggia si era riempito tutto quanto sì l'emozione vera sì ma dà la felicità all'acqua ok senti abbiamo ricevuto una domanda tra le domande che ho recuperato da quelle sotto i video cioè quella di Francesco che chiedeva più o meno quali sono se ci sono eventuali problemi che derivano dal fatto di scavare questi canali in questi terreni forte pendio cioè come evitare poi invece lo smottamento creare problemi ecco bisogna essere accurati bisogna essere accurati il rischio idrogeologico in questo paese c'è per cui bisogna stare molto attenti ora io quello che faccio notare sempre è la maggior parte dei bacini credo 8 dei 16 17 bacini che abbiamo sono all'interno del bosco quindi diciamo gli smottamenti con quelle querce che ci sono e con tutte le piante ci sono è complesso poi nel mio contesto specifico spesso siamo su roccia madre quindi se dovesse smottare tutto quanto non è che mi preoccupo del bacino dello smottamento del mio terreno vuol dire che sta venendo giù tutta la collina perché noi abbiamo vene di roccia madre che ci seguono dalla cima fin giù al fiume che c'è a 130 metri in basso e allora pericoli ce ne sono bisogna sempre essere molto attenti a dove si vanno a fare degli interventi bisogna innanzitutto guardare le mappe che ci sono che sono online che sono sui rischi di frana i terreni sono codificati in base a dei rischi ci sono credo da A, B e C sono i livelli di rischio per frana e ci sono dei terreni in cui non puoi fare veramente nulla se no rischi delle multe salate vai sul penale cioè lì poi una scelta libera e responsabilità personale si possono fare dei micro interventi cioè non è detto ecco questo bacino qui ultimo sta facendo vedere Filippo ora questo qui quello più stretto che era prima ma non importa se immagini sono in movimento non c'è problema quel bacino lì è stretto e lungo quello lì è su una terrazza noi lì che cosa abbiamo fatto la terrazza è 4 metri 4 metri e mezzo noi abbiamo fatto un bacino che occupa metà della terrazza nella sua larghezza proprio per avere comunque quella quantità di suolo col muro a secco a valle che ci tiene la massa di acqua ok per cui lì devi riuscire a tarare in base allo spazio sostanzialmente non è detto si debbono fare bacini per forza non è detto si debbono fare canali per forza il contesto è assolutamente importante e specifico pendenze pendenze superiore al 20-25% no terrazzamenti si hanno di solito con pendenze sopra al 33% diciamo poi si può terrazzare anche col 20 vedevo il commento anche col 20 il 25% risposto subito il lince sulle pendenze mi raccomando attenzione a gradi e percentuali perché cambia molto ok perché 45 gradi di pendio sono il 100% di pendio per cui c'è questa piccola differenza infatti di solito si spiega nei corsi permacultura c'ho sempre la tabella dietro perché non lo sei ma spiegata e io ragiono sempre in percentuali per un motivo posso spiegare brevemente perché ho imparato a calcolare il pendio con la livella d'acqua da un manuale di ingegneri idrologi indiani che è un manuale stupendo il miglior manuale che abbia mai letto e loro ti spiegano con la livella d'acqua come calcolare il pendio e il risultato arriva in percentuale e devo dire che la percentuale è molto più facile da interpretare e da capire i gradi sono un po' più complessi ok perfetto dopo visto che hai toccato un altro testo poi parliamo un po' della tua biblioteca ti leggo un altro paio di domande però c'è Alessandro che dice ma se l'acqua mi serve per bagnare con una certa pressione va bene lo stesso se la accumulo in una cisterna per utilizzarla in un secondo momento mi trovo in un posto dove non ho acqua corrente allora ogni 10 metri di dislivello l'acqua prende un'atmosfera ogni 10 metri in piano l'acqua di fatto perde praticamente un'atmosfera per cui bisogna stare molto attenti quando si fa andare l'acqua con un tubo in piano e si perde tutta quella pressione che si è raggiunta con la caduta che magari che si aveva col dislivello iniziale dove avevamo la cisterna tendenzialmente due metri di dislivello per annaffiare irrigare un orto vanno bene hai abbastanza pressione per far andare anche diciamo una manichetta ci si può fare o se no hai anche solo una canna per irrigare o puoi riempire un annaffiatoio se non è un orto troppo grande però due metri di dislivello direi che va benissimo alle volte vedo i bidoni di quelli da cisterna da mille litri messi anche tipo sui tubi innocenti o messi su un rialzo e ti fanno quel minimo di caduta consiglierei certo se uno riuscisse ad avere dieci metri sarebbe il massimo noi ne abbiamo cinquanta per cui da noi l'acqua arriva un po' più veloce ok ok senti allora qui c'è Francesca che dice interventi piccoli ok ma su bacini di una certa grandezza va informato il comune di appartenenza assolutamente allora se noi allora io di solito spiego questa cosa quello che io ho fatto nella mia azienda essendo un'azienda agricola io ho quello che si chiama movimentazione libera di terra agricola è il testo unico sull'edilizia che è stato semplificato dal decreto Madia del 2018 quindi non c'è nemmeno più la comunicazione al comune quelle sono cose che io posso fare senza problemi perché sono sistemazioni agrarie che sono fatte proprio per gestire l'acqua piovana in realtà la legge è stata scritta pensando alle scoline dei campi quelle che si fanno quelle V gigantesche quelle V gigantesche alle volte sono profonde un metro e cinquanta perché i trattori che le fanno sono trattori diciamo significativi per cui se io faccio un invaso un piccolo bacino di 80-90 centimetri di profondità spesso si va sulla profondità alcuni comuni nei loro piani nei loro regolamenti vanno su invece i metri cubi di terra che spostate se io devo fare un invaso che mi serve per irrigazione che mi serve per raccogliere acqua per una casa per un centro per un quello che vi pare però è un invaso significativo stiamo parlando di centomila duecentomila cinquecentomila litri devo andare al comune devo andare al genio civile e devo presentare un progetto cioè una cosa avere la persona che ti fa la progettazione in permacoltura e ti dice dove posizionare quell'invaso e te lo progetta e te lo disegna anche se è però un professionista che può firmare il progetto bene se no dovete trovare poi il professionista che vi firma il progetto o che parla con una permacoltrice o un permacoltore e dice va bene se metto l'invaso lì però sì bisogna andare in comune bisogna andare specialmente se si è privati cioè diciamo le aziende agricole hanno questa piccola agevolazione se vogliamo perché riusciamo a fare delle cose legalmente perché noi abbiamo comunque il diritto di gestire perché se no rischieremmo smottamenti o robe varie danni ok fa parte del lavoro allora veniamo alla meravigliosa biblioteca e agli altri progetti che potrei realizzare grazie al crowdfunding che sta andando molto bene insomma non mi ricordo ma insomma sono poche settimane che l'hai fatto partire ti eri dato un obiettivo ti servivano 4.000 euro appunto per la biblioteca adesso ci racconti li hai raggiunti e adesso hai anche un secondo obiettivo che ci racconterai partiamo dai libri perché ogni tanto ne citi qualcuno e insomma tu sei riuscito a fare veramente un grande lavoro di raccolta appunto di testi internazionali internazionali sui temi che riguardano insomma partendo dalla permacultura che riguardano però tutta la gestione del territorio le coltivazioni le tradizioni indigene ci sono molti contenuti diversi nella tua biblioteca parlaci un po' di cosa c'è e poi di come lo metterei a disposizione allora io dico sempre i libri sono la sostanza organica con cui aumentiamo la fertilità della mente no perché come dicevo prima sull'acqua siamo in ariditi cioè noi abbiamo bisogno comunque di leggere di ispirarci no e tantissime pagine sono state scritte sono pagine veramente significative io ho iniziato a raccogliere libri di permacultura di progettazione in generale nel 2014 ora credo che siamo a più di 4.000 libri 4.500 alcuni sono in ebook alcuni sono in cartaceo sono molti alle mie spalle e diciamo che il mio problema è che avendo letto un libro guardo la bibliografia e comincio a cercare tutti gli altri sono citati di bibliografia diciamo che mediamente se prendo 2-3 libri per ogni libro che leggo ecco come si arriva velocemente anche a 4.500 libri l'idea è questa in realtà io ho già presto libri in giro per l'Italia prima del covid era anche più facile perché nelle plenarie dell'Accademia di Italiani di Permacultura spesso mi veniva detto mi porti quel titolo lo portavo e c'era chi mi ridava il libro quindi diciamo ogni sei mesi c'era questo scambio e poi è stato un po' più difficile magari c'è chi ha tenuto un libro anche due anni perché non ci siamo più visti e ora credo ne abbiamo 30-31 in prestito fuori fra Marche Lazio Umbria addirittura uno a Torino insomma sì sostanzialmente la mia idea è sempre stata questa a me piace l'idea di prestare i libri li presto a persone che conosco che vengono alla scoscesa con cui parlo quindi non è che tu mi chiami spedisci un libro non funziona così funziona sul fatto che c'è uno scambio c'è una simmetria e credo molto nel fatto che non è detto che tutti si voglia leggere o avere quel libro però magari lo vuoi leggere allora invece di spendere quei soldi lo puoi prendere in prestito leggere approfondire l'argomento e poi lo ridai oppure vedi che il libro ah no assolutamente lo voglio e te lo compri per cui è stata un po' questa idea qui all'annesso che noi abbiamo stiamo finanziando che abbiamo in realtà finanziato col crowdfunding perché abbiamo raggiunto la somma che ci serviva sposteremo la biblioteca finiremo anche il laboratorio di trasformazione quindi diciamo che lì all'annesso agricolo io vorrei che si creasse uno spazio anche di aggregazione intorno ai libri che porterò lì che ci fosse uno scambio no su questa su questa cosa la cosa bella è che posso dire che ci sono persone che mi hanno comprato libri e me l'hanno regalati e spediti ok aggiungi questo libro alla biblioteca e e spesso sono persone che hanno già preso libri da me dicono ma questo titolo ce l'hai no non ce l'ho ah cavolo potrei prendere no guarda te l'ho già comprato io te lo regalo e questa è una cosa molto bella io sto scoprendo e devo dire che tengo dedico solo due parole a crowdfunding non tanto in sé sul progetto ma su un aspetto che mi mette in difficoltà perché io quando ho lanciato il crowdfunding uno dice per quanto lo vuoi far durare no e ho messo 80 giorni perché dicevo vabbè sai come fai a raccogliere questi soldi in realtà noi 4.000 euro li abbiamo raccolti in tre giorni e ho detto e ora che si fa eh certo abbiamo 77 giorni e uno potrebbe lasciare morire c'è tempo per progettare altro no no c'è tempo infatti poi abbiamo lanciato in realtà guarda domenica sono due settimane quindi non è nemmeno due settimane infatti noi abbiamo già lanciato la cosa facendo poi il sondaggio su Instagram chiedendo in newsletter a chi faceva già sostenuto come utilizzare i soldi che avremmo potuto raccogliere in più eventualmente e abbiamo deciso sostenuti da diciamo tante persone hanno votato di realizzare l'impianto fotovoltaico per il pozzo perché noi ancora oggi usiamo un generatore a benzina e quindi abbiamo deciso di fare il fotovoltaico guarda te lo consiglio è un'ottima scelta perché io ce l'ho il fotovoltaico per il pozzo è veramente risolutivo eh a voglia lo so ma infatti guarda io infatti devo dire che già queste già l'anno scorso ci pensavo diciamo ah vorrei mi feci fare il preventivo da un amico che fa impianti off grid qua di là certo però la somma è alta cioè nel senso perché il problema è questo secondo me no spesso uno vede un'azienda agricola che va bene o comunque sta iniziando ad andare bene in realtà un'azienda agricola spesso vive sul come si direbbe in Toscano e Francesca tu mi avrai poggio e buca fa pari no cioè tu tanto ti entra ma tanto anche ti esce cioè non è che tu hai riesci a mettere da parte quelle risorse in più per fare quell'investimento e si sta parlando investimenti di 4.000 euro cioè non si sta parlando di far 100.000 euro ci credo non riusci a alle volte è difficile proprio questo per cui è questo il senso e devo dire che per quello che prima ho detto sono in difficoltà perché il craft non durerà tanto ma io sono in difficoltà perché le persone hanno dimostrato una tale hanno dimostrato aver capito così profondamente la nostra la nostra idea il progetto che stavamo presentando e di essersene appassionati io ho persone che parte tantissime persone non conosco De Visu che non ho mai visto che mi scrivono messaggi fantastici che hanno veramente una passione per un luogo che io spero riusciranno un giorno a visitare perché io accolgo sempre persone da me perché mi fa veramente piacere e vedo che comunque per certi versi come a me la scoscesa è una fonte di ispirazione quotidiana lo è per tante altre persone Sì infatti la cosa bella è questa insomma che anche riuscendo avendo ormai questi strumenti a disposizione di comunicazione si riesce a aiutare altre persone a portare avanti progetti simili e poi a fare rete e quindi ad aiutarsi a vicenda appunto per una soluzione di un problema economico a volte anche per un problema pratico sì assolutamente il bello di mettersi insomma in gioco di metterci la faccia è quello poi di ricevere tantissimo tantissimo di ritorno insomma e contribuire a creare la rete che è proprio quello che serve questo è il momento della creazione delle reti e delle buone relazioni insomma senti ti volevo leggere qualcosa che sta arrivando aspetta quello che ho visto allora questo è Stefano che fa questa domanda non so se vado fuori dal seminato ma a livello credo che volesse scrivere idrogeologico poi è uscito un'altra parola ma il correttore fa di queste cose e non solo e non solo che danno si fa a cementificare un crinale appenninico per realizzare un impianto eolico industriale credo che abbia sicuramente qualche progetto concreto che allora se si fa un parco eolico di danno se ne può fare tanto qui c'è il problema grosso di tutte quelle che sono le fonte alternative di energia di capire qual è il peso che si fa fra il danno o il beneficio che se ne ha di danno se ne può fare tanto assolutamente a livello idrogeologico dipende dipende da come si fa la cementificazione perché comunque andrebbe visto il contesto specifico sicuramente l'impatto c'è non nego però potrebbe essere che quell'acqua se si cementificasse in un certo modo si potrebbe magari anche direzionare o far andare in certe direzioni o far muovere in un certo modo certo è che quando si fanno questi tipi di interventi non credo che ci sia nessuno che ragioni dal punto di vista dell'acqua o dal punto di vista degli ecosistemi che si vanno a impattare e quindi si cementifica come se stesse costruendo il pilone di un'autostrada cioè tu arrivi sbanchi e fai e butti giù io non so dire cosa sia meglio sinceramente il grosso dilemma oggi secondo me sull'energia è proprio questo perché il fotovoltaico che impatto ha l'eolico che impatto ha di fronte però alle centrali a carbone o a tutta una serie di altri impatti che hanno che però sapete cos'è la differenza che magari la centrale non la vedo io accendo una luce ma arriva l'elettricità posso non vedere il danno che fa quella centrale invece poi quando tu hai il fotovoltaico c'è chi dice ma tuo pannello fotovoltaico inquina perché tu lo vedi è lì perché se hai il tuo impianto privato io devo dire la verità è uno degli argomenti che vorrò approfondire per capire realmente l'impatto che stiamo avendo sì c'è diciamo una delle possibilità ma anche questa non è prima di impatti è quella di fare più possibili interventi puntuali distribuiti cioè tu hai il tuo hai fatto la tua struttura la scoscesa hai messo il fotovoltaico là sopra ecco magari sfruttare tutto quello che è già edificato nelle città avremo tantissimi spazi proprio da dedicare a questo quindi quantomeno andare a consumare il nuovo suolo penso come base assolutamente poi però certo costruire l'impianto ha comunque il suo impatto perché si va infatti scusa no no non è per fare pubblicità però infatti io mi riguardo ogni tanto il vostro video fatto da come si chiama lui che ha tutta quella casa dov'è in Umbria ah sì 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 certo non mi ricordo il nome del luogo c'ha un nome sì scusami adesso mi sta sfuggendo adesso mi arriva subito sei dimenticato anche Filippo abbiamo fatto però lo guardavo l'altro giorno esatto esatto perché lo guardavo e dicevo vedi però potrei fare anche questo ecco io dovrei approfondirmi certi argomenti perché vorrei capire l'impatto però quello sì quello sì perché poi c'è tutto discorso la produzione la produzione dei materiali dei pannelli però vabbè comunque sicuramente e questo è uno dei temi principali della permacultura una cosa da fare è imparare a utilizzare meno energia si possono risolvere un sacco di problemi che oggi facciamo affidiamo all'energia progettando in maniera diversa questo diamolo come messaggio Lorenzo sostiene come la gravità per irrigare no come la gravità per irrigare cioè in realtà con un generatore pompo l'acqua in cima e riesco a irrigare portare l'acqua in due ettere e mezzo il momento in cui riesco a togliere quel generatore solo con l'energia solare per quanto io possa avere un impatto riuscirò a pompare l'acqua e irrigare due ettere e mezzo cioè è solo per gravità a quel punto è una cosa incredibile quando comincio a pensare a queste possibilità esatto quello è una cosa sicuramente da fare e lì siamo sicuri che l'impatto lo riduciamo allora Fulpio ti fa una domanda domandona meravigliosa quindi solo tu puoi rispondere puoi spiegare che cos'è una curva di livello questa è una domanda che arriva spesso una curva di livello è una linea immaginaria che noi troviamo sulle cartine topografiche in cui noi segniamo tutti gli infiniti punti che hanno la stessa elevazione sul livello del mare per cui quando tu prendi una carta topografia vai a fare trekking una carta del kite e vedi quelle righe e di sotto c'è ogni tot righe ce n'è una con il numero anche tipo 100 125 150 175 200 quelle ti dice che 100 tutti quei punti sulla linea dove c'è scritto 100 sono tutti punti che sono esattamente a 100 metri dal livello del mare che è stato deciso a livello internazionale che il punto è il livello 0 è lo 0 da cui si misura ora quando noi facciamo riferimento però alle curve di livello non stiamo guardando in realtà l'altitudine sul livello del mare non ci interessa se siamo a 100 101 102 noi in progettazione prendiamo le curve di livello perché vogliamo sapere però quali sono unire tutti i punti che sono sulla stessa altitudine sul livello del mare non ci interessa sapere se sono 100 o 120 ma ci interessa che siano tutti sulla stessa elevazione perché perché se io su quella elevazione vado a fare un intervento tipo un canale l'acqua mi si distribuirà oppure una volta che ho determinato la curva di livello ecco là si vede nel video una livella ad A che è un archipendolo quando io ho determinato la curva di livello posso divergere la curva di livello vuol dire che da un lato non starò sulla curva ma scenderò e vuol dire che l'acqua si potrà smuovere questo video qua che Filippo sta facendo vedere si vede il canale che porta al bacino eccolo quello lì è un canale di diversione cosa vuol dire io con la livella d'Ao ad archipendolo ho preso la curva di livello e poi ho scavato il canale con un centimetro ogni metro di diversione dalla curva di livello in modo che l'acqua arrivi fino al bacino perché non avevo spazio di fare un bacino lì vicino a quella strada di bosco che c'è quella strada sterrata e allora dovevo andare nell'unico punto quindi dovevo spostare l'acqua e quelli sono quasi saranno 10-12 metri ho dovuto scavare un canale per 10-12 metri per farla arrivare fino a dove volevo che l'acqua arrivasse perfetto grazie veramente chiaro la diretta rimarrà registrata qualcuno ce lo sta chiedendo quindi vi potrete risentire questa parte specifica dell'incontro su curve di livello e come gestirle allora vorrei ritornare un attimo che l'abbiamo citato Alessandro Ronca ricordiamo che il suo luogo bellissimo interessante che si trova in Umbria si chiama Parco delle energie rinnovabili il PER quindi lo trovate sul sito se volete insomma abbiamo più video fatti con lui per vedere cosa c'è e andarlo a trovare è sicuramente interessante Lorenzo fa un sacco di corsi in giro sull'acqua quindi se avete voglia di approfondire imparare bene la gestione lui può farlo Lorenzo ne hai uno che parte a breve che ci vuoi citare se qualcuno vuole dire ne ho uno il 4-5 marzo a Arqua Petrarca in Veneto è la prima volta in Veneto a fare un corso in realtà sono già stato in Veneto ma a insegnare un corso a Holiday House Petrarca e lì faremo una due giorni di progettazione sull'acqua sarà più un discorso introduttivo e di introduzione anche a quello che è la progettazione che si può fare sull'acqua spettando proprio dal caso specifico dove andremo a fare il corso in realtà poi ci sono vari altri corsi sull'acqua che ad alcuni sto arrivando ora a dire no perché non ce la faccio più nel senso che la richiesta è tanta infatti secondo me la cosa che ci sarà è di formare sempre più persone per avere dei progettisti e delle progettiste specializzate sull'acqua in ogni regione in ogni regione si possa coprire ogni esigenza esatto sì sì perché qui c'è da risistemare il territorio palmo a palmo quindi ci vogliono persone allora ti chiede Paolo vorrei sapere a un bosco di querceto in un pezzo di terreno molto scosceso quale cultura ci potrei immettere e conviene farci un terrazzamento allora se è un bosco non terrazzerei perché il bosco già di per sé sta perché il terrazzamento serve per sostenere il suolo e non farlo di lavare e serve per creare spazio coltivabile puoi ricavare dei micro terrazzamenti all'interno del bosco cercare di spianare alcune parti e allora innanzitutto parti dal presupposto di osservare quello che già cresce nel bosco di querce perché a parte le ghiande che possiamo poi rispondere alla domanda e aprire capite le ghiande che è già una quello lo apriamo ci ha dato subito ci ha dato il là è una fonte di nutrimento di sostentamento ci sono spesso tantissime piante che crescono nei querceti già o anche funghi perché spesso magari non parlo di funghi ma ci sono anche i funghi da me non ne crescono quelli commestibili crescono quelli bioluminescenti notturni e altri però vabbè coltivare sotto alle querce si può coltivare realmente tutto tutto ciò che si può coltivare all'ombra lo puoi provare a mettere osservando anche quelle che la flora selvatica per esempio da noi alla scoscesa osservando proprio il tipo di piante mi sono reso conto che c'era una zona di bosco che era più umida non c'era acqua non è che si vedeva acqua ma era più umida perché c'era l'elleboro fetido che è una pianta selvatica peraltro credo sia tossica si è tossica e c'era la dafne altra pianta che credo sia tossica e che è tossica che assomiglia molto alla piantaggine in realtà la ricorda però è diversa mi raccomando state attenti se non vengono a fare raccolta di spontanea perché bisogna sempre essere sicure e sicuri lì quelle due piante lì erano delle piante bioindicatrici che mi dicevano che lì c'era comunque umidità e quindi lì ho potuto mettere determinati tipi di piante ho potuto inserire determinati tipi di piante dove invece il bosco era più proprio un bosco tipico che antigiano con ginepro e quercia e praticamente basta hai un bosco più secco e quindi cercherai di mettere piante che sono più resistenti però diciamo che all'ombra tantissime foglie come possono essere mizuna mibuna senapi alcune brassiche a foglia la rucola possono tutte crescere all'ombra assolutamente ok allora senti abbiamo toccato il tema delle ghiande come risorsa alimentare ok approfondiamolo ne abbiamo parlato in uno dei video che abbiamo fatto insieme l'ho trovata una cosa veramente interessante a tanti risvolti come scoprire per esempio che le ghiande non ci danno lo stesso raccolto ogni anno neppure anni alterni insomma decidono loro quando è il caso di riversare la loro abbondanza e quando no però quando arrivano le ghiande sono una grande risorsa ancora forse qualcuno li utilizza per gli animali in realtà si possono utilizzare sì per gli animali che sarebbe uno spreco non usarli almeno per loro ma si possono usare per la nostra alimentazione come fai tu? assolutamente allora noi abbiamo mangiato più ghiande come specie di cereali cioè noi crediamo che i cereali che noi usiamo da 14 mila anni perché prima magari usavamo il cereale selvatico ecco noi abbiamo mangiato più ghiande da quando esistiamo su questo pianeta rispetto ai cereali per cui noi siamo stati tutti mangiatori di ghiande esistono ancora delle balanoculture così si chiamano che sono delle culture che si cibano di ghiande che le utilizzano che sono in Portogallo in California in Corea e esistevano anche in Italia tanti ridono però in Sardegna ancora si fa un pane di ghiande si mangiavano le ghiande in Umbria nelle Marche ci sono testimonianze di consumo di ghiande in Valtellina in Val Camonica in tutta la zona dell'Arco Alpino per cui diciamo tocchiamo un po' tutta la penisola ci sono ghiande dolci in Calabria per esempio quindi erano consumate anche in Calabria il procedimento è quello di raccogliere le ghiande e poi te le tieni in una cassetta e quando riesci le devi sgusciare devi levare il tannino mettendole a mollo nell'acqua se hai acqua corrente meglio se no devi cambiare due volte al giorno l'acqua i giorni per cui il tannino si toglie ni non si possono dire perché dipende anche dall'anno l'anno due anni fa mi ricordo ci sentivamo fra raccoglitori di ghiande specialmente con l'onora Matarrese che è quella che mi ha insegnato tantissimo sulle ghiande della coca selvatica una grandissima ricercatrice e professionista che fa raccolta di erbe spontanee e tutto quanto ci sentivamo e diceva io ho 15 giorni e provo a togliere il tannino e non mi va via e io dicevo io in tre giorni mi è andato via quindi si è capito ci sono delle differenze probabilmente legate al tipo di suolo al tipo di regione probabilmente a quanto è più avuto io credessi anche un livello legato proprio a quanta acqua forse la pianta ha avuto io non ho trovato articoli su questo quindi comunque vanno lavati dal tannino le assaggiate si assaggiano si possono mangiare crude si assaggiano se sono ancora così un po' che allappano dovete ancora lavarle c'è ancora il tannino se stanno germinando non vi preoccupate perché se germina e vedete uscire il proprio diciamo spaccarsi la ghianda ok rosgusciatela e mettetela a mollo perché quando le ghiande germinano in realtà i livelli di tannino si abbassano per cui le lavi per meno tempo una volta lavate le dovete essiccare basta anche un forno e stare sotto i 50 gradi diciamo 45 sarebbe il massimo se si riesce a definire bene la temperatura si essiccano di solito io le essicco per 18 ore e comunque poi controllo perché alle volte magari le hai messe troppo ammassate una ha preso un po' meno l'aria calda quindi le devi un po' ecco distribuire bene su una superficie a quel punto essiccatele puoi tenere un anno e mezzo da una parte consiglio di non fare la farina perché se fate la farina proprio perché le ghiande sono molto oleaginose addirittura si fa un olio di ghiande quello con le ghiande fresche non ci ho mai provato e pare che sia molto ricercato perché comunque pare sia buono questo è una cosa da scoprire ci proveremo però se voi fate la farina subito si rovina molto facilmente se la volete conservare quando una volta che l'avete macinata la volete mettere in congelatore se no tenete le ghiande intere essiccate e quando volete un po' di farina la macinate ok hai detto un anno e mezzo una volta fatto tutto il procedimento un anno e mezzo diciamo in una confizione ermetica in una scatola se le volete si possono tenere quando sono essiccate secondo me quando l'avrete assaggiata vi dura un mese perché voglio dire dipende dalla quantità però per me è veramente buona una cosa su come si macina mi raccomando non usate le macine in pietra che si usano per i cereali perché la pietra scalda e quindi le ghiande scalderebbero quando le macinate e quindi l'olio uscirebbe e quindi si rovina si rancidisce la farina e se avete un macina spezie o avete un robot da cucina di quelli tipo bimbi ok che ha la velocità tipo turbo meglio è meglio se è in acciaio perché l'acciaio se lo usate per brevissimo tempo scalda un po' meno rispetto alla pietra ok noi abbiamo comprato un macina spezie da me alla scoscesa che fa 32.000 giri al minuto è fatto proprio per macinarle le spezie puoi anche farci la noce moscata che è dura e quello lì in 16 secondi ti fa la farina finissima da quanto gira veloce perché è una questione di scaldarla meno ecco ok va bene insomma però è molto interessante però scusa tu cosa io ho letto dopo anche che ne avevo parlato con te di questa caratteristica dei boschi che quasi si accordano gli alberi insieme per non fare tutti gli anni troppo troppi frutti troppe ghiande o altre insomma anche per esempio le fagiole dei faggi no quindi altre fonti che un tempo utilizzavamo anche per la nostra alimentazione di non fare sempre una grossa quantità di frutti anzi saltare più annate per evitare che ci sia un'esplosione demografica degli altri abitanti del bosco insomma quindi degli animali e tu hai approfondito questo tema perché insomma se ci puntiamo un po' dovremmo avere un po' di continuità come facciamo allora è così in realtà ci siamo osservando il bosco della nolla scoscese siamo resi conto che non è così per tutte le querce dipende un po' ce ne sono alcune che hanno una variabilità minore non ho mai definito se quella specie la la quercus robur la roverella o il leccio però secondo me quello che si può fare per stabilizzare è nell'anno di carica tiri a farne più possibile e quindi ti può durare e poi vedi un po' perché io sono convinto che ci siano il punto vero è che uno dovrebbe diventare come un cercatore di funghi devi trovare quella quercia che ha quella quantità di ghiande noi quest'anno abbiamo raccolto quasi tutte le ghiande che abbiamo da un'unica quercia ok infatti poi non è che serve non è che serve andare per ettari perché noi abbiamo due ghiande qui due ghiande là noi addirittura un anno abbiamo messo le reti da olive sotto a una quercia ok quando hai trovato quando hai trovato insomma la tua pianta ti accorgi prima se sta facendo le ghiande bene quell'anno poi vai al momento giusto senti c'era arrivata una domanda sotto al video se sapevi quali fossero le ghiande migliori per fare appunto la farina la roverella va bene cioè fa le ghiande più dolci ti risulta? allora sta chiedendo anche Mauro a quale quercia raccogliere le ghiande allora tutte le ghiande si possono consumare i livelli di tannino variano in base all'annata e come è stato l'anno da un punto di vista di precipitazioni insomma di tutta una serie di aspetti e sì la roverella sembrerebbe un po' meno tanninica esiste la quercus virgiliana tenore che è una varietà calabrese che è dolce quella la potete sgusciare e mangiare direttamente esiste anche una varietà in portogallo che è dolce addirittura la fanno tipo un po' tostare e te la mangi tipo snack così come è sgusciata o anche cruda come se tu sgusciassi una mandola guarda c'è una Liliana che ci ha scritto che è un'italiana in portogallo fanno ottimi dolci di liquori e liquori di ghiande scusami dolci e liquori di ghiande assolutamente assolutamente guarda con le ghiande si può fare veramente tantissime cose il caffè si può fare il gelato partendo dal caffè di ghiande si può fare il gelato di caffè di ghiande si può fare i liquori fanno in portogallo e in portogallo sono un po' più fortunati perché quasi tutte le loro ghiande sono dolci e noi invece dobbiamo un po' combattere coi tannini e io non so dire quale sia migliore perché io un anno ho assaggiato un leccio che era dolce era mangiabile e la ghianda accanto dello stesso leccio era una roba immangiabile cioè non credo ci sia nemmeno una costanza nella stesso albero che dopo poi io non so cosa sia non ci sono studi così specifici sui livelli di tannino io ve le dico le cominciate a sciacquare dall'acqua e quando sono mangiabili le potete poi essiccare io devo dire la verità io prendo le ghiande dove le trovo e dalla varietà che trovo qui ho tantissimi lecci ho farnie e ho roverelle prendo da queste tre non contiene glutine non contiene glutine invece Francesca chiede se il tannino va tolto perché è sgradevole al palato o perché fa male è sgradevole al palato non so se in grandi quantità possa dare fastidio però è proprio sgradevole al palato cioè allappa in un modo che è immangiabile è un po' come se vi è mai capitato di mordere un'oliva dall'albero dell'olive ecco non lo fate ecco non lo fate perché so in bocca vi ritrovate una roba che è immangiabile è la stessa cosa per me è una questione di ecco fastidio tanto è di palato insomma quindi non si può fare allora senti Lorento abbiamo tantissimi argomenti da affrontare ancora quindi o ti faremo una diretta ma torneremo a trovarti se tu ci dai se vuoi facciamo andare ancora avanti dai si può fare ancora qualche domanda qualche minuto ok allora adesso riprendiamo qualche altra domanda comunque cioè nel senso uno dei temi che volevo affrontare è appunto magari approfondire quello dei fermentati che abbiamo appena accennato non ho detto i video però tu utilizzi questi fermentati coreani per nutrire il suolo assolutamente ci vuoi dire qualcosa questo affrontiamolo sì assolutamente non rimandiamolo perché c'è stata una domanda specifica mi ricordo avevamo detto l'avremmo affrontato allora noi quattro anni fa la mia tutor di diploma Elena Parmigiani lei seguiva il KNF il Korean Natural Farming e me ne parlava ha cominciato un po' a parlarne con me Daniele che è il mio socio che lavora con me e quindi da lei abbiamo cominciato a appassionarci e forse erano già cinque anni fa e noi da quattro anni applichiamo il KNF e già Dam che ora vi spiegherò che cos'è è una costola diciamo il KNF applichiamo da quattro anni questa tecnica di gestione della fertilità e di salute delle piante in cosa consiste una sessantina di anni fa Master Cho che è un agronomo coreano ha cominciato a rimettere insieme tutta una serie di informazioni derivanti dall'agricoltura naturale giapponese coreana e cinese e sostanzialmente ha messo su un sistema di gestione della fertilità e di gestione della salute delle piante anche di difesa delle piante da possibili insetti nocivi utilizzando tantissime ricette che la finalità iniziale era quella proprio di abbassare i costi per l'agricoltore per il contadino per la contadina perché in KNF di fatto non vai a comprare a parte zucchero di canna grezzo a parte aceto di riso che però in realtà te lo potresti fare da te perché noi abbiamo fatto aceto di banana abbiamo fatto vari aceti da noi proprio per utilizzare nei fermentati non vai a comprare nulla utilizzi tutti ingredienti e risorse che tu trovi in loco jadam è una costola perché dico che è una costola perché yang san chok è il figlio di master chok ha litigato col padre come spesso succede in famiglia se discute di qualche cosa e hanno discusso su perché usiamo lo zucchero che comunque ha un costo e non facciamo usare le patate che sono di fatto zuccheri e quindi yang san chok ha cominciato a creare tutta una serie di ricette che sono basate sulle patate ma insomma non cambia niente tant'è vero che i due metodi dialogano sostanzialmente noi utilizziamo diciamo per far capire tre preparati che sono per me fondamentali imo che sono i microorganismi indigeni che vuol dire infatti indigenous microorganisms i microorganismi indigeni li recuperi col riso semibollito di solito si fa in aprile e in autunno perché deve esserci un minimo di temperatura si usa il riso semibollito perché il riso sono zuccheri anche quelli quindi attirano tutta una serie di microorganismi si possono fermentare le ghiande come le olive si recuperano col riso questi microorganismi e di solito quello che tu vedi è che il riso viene colonizzato da una nuvola bianca e di solito hai attinomiceti alghe funghi e batteri tra cui specifici attinomiceti che sono batteri prendi questo riso e quello è Imo 1 lo mischi con pari volume pari quantità scusate non pari 1 pari peso di riso e zucchero di canna grezzo e quello diventa Imo 2 sostanzialmente mandi in stasi i microorganismi gli dai talmente tanto zucchero che come il pranzo di Babette sono lì a pancia gonfia non sanno più che fa e stanno lì possono starci in annetto Imo 2 si può usare in forma liquida come il compost tea cioè ovviamente usi un arieggiatore 24 ore fa la schiuma e poi lo puoi dare come trattamento fogliare alle piante se non vuoi fare Imo 2 vai a fare Imo 3 Imo 3 cosa fai? prendi Imo 2 30 grammi di quello zucchero con il riso lo mischi nell'acqua 30 litri e lo metti su un cumulo di crusca i coreani usano la pula di riso noi usiamo la crusca perché vicino a noi non c'era nient'altro sono un mulino che facendo la farina poi ti butta via la crusca e ce la regala fai un cumulo lo bagni con questa acqua che è mischiata con gli Imo 2 e dopo una settimana questa crusca diventa solida è colonizzata da microrganismi e quello è Imo 3 a quel punto fai Imo 4 pari volume di crusca pari volume di suolo delle tue aiuole mischi tutto annaffi e in una settimana è ricolonizzato da tutti e diventa solido guardate si può alzare con una forca di solito la crusca cascherebbe attraverso anche il suolo diventa un tocco solido una roba solida la sbriciolate e a quel punto l'Imo 4 lo potete tenere anche un anno un anno e mezzo da parte lo sbriciolate sulle aiuole si può fare anche l'Imo 5 ok i filippini sono arrivati a fare Imo 7 ognuno ha la sua perché poi c'è un manuale di KNF delle filippine che mi sono trovate e me lo sono letto e che volevo cercare di approfondire l'altro che usiamo è il GGLF che è il Green Grass Liquid Fertilizer quello è erba di campo presa qualsiasi sia non dovete stare a guardare tagliate l'erba di campo la sfalciate la tagliate a pezzi un po' più piccoli ma non minuscoli diciamo pezzettoni la mettete in un bidone da 200 litri come quelli che si vedono nel video forse si sono intravisti quei bidoni blu quelli più grossi riempite a due terzi poi mettete un chilo e mezzo di crusca due chili di guano di pipistrello non sapendo dove nidificano i pipistrelli abbiamo scelto il guano di piccione stando in campagna i piccioni non sono i piccioni di città il piccione perché si è scelto perché il piccione per sua natura ha un areale molto ampio e ha una dieta molto variegata e quindi il guano è più equilibrato come una serie di nutrienti che può contenere mettete il guano di piccione con la crusca con le erbe di campo una manciata di lettiera di bosco che è uguale alla lettiera di bosco che abbiamo usato per fare limo sostanzialmente noi il riso lo mettiamo nella lettiera di bosco riempiamo di acqua e in quattro giorni è pronto quello lo usiamo in fertirrigazione specialmente a maggio-giugno quando abbiamo fatto i trapianti estivi le piante sono appena state trapiantate per evitare un po' quello stress gli diamo una bella fertirrigata di GGLF che è un concentrato di tutti i nutrienti diciamo azoto fosforo potassio le volete ma anche di micronutrienti e voi estrete dalle piante sostanzialmente cosa si fa si fa una fermentazione del tessuto delle piante di campo e si estraggono nutrienti ok per cui è sostanzialmente questo noi estraiamo dalle piante stesse quello di cui le piante hanno bisogno sostanzialmente poi noi usiamo un altro che il GGLF GGLF però vabbè è sempre solito Lorenzo quanto fai la prossima volta prepari uno di questi fermentati che ti veniamo a trovare in primavera ci mettiamo d'accordo e ve lo dico così si organizza che veniamo così facciamo vedere anche le fasi ok è ancora più più facile nel frattempo cerco un nido di pipistrello eventualmente procuro un po' di guano io lo so è il miglior guano al mondo un fertilizzante fantastico tra l'altro i pipistrelli sono animali fantastici perché ci aiutano a gestire l'eccesso di insetti di zanzare quelli soprattutto fastidiosi quindi se per caso li avete il trucco è per molti si lamentano che poi appunto hanno il problema del guano mettete una tavoletta che lo raccoglie e poi ve lo mettete da parte e avete un ingrediente bisogna avere tante back box per avere tutto il guano uno si raccoglie esatto però non è male perché anche ai pipistrelli abbiamo fatto diversi danni io mi ricordo quando ero piccola ne vedevo parecchi adesso mi capita molto più raramente anche vicino casa insomma torneranno anche loro torneranno anche loro senti allora una cosa prima di chiudere voglio ritornare sulla biblioteca e sulle imprese da fare perché insomma è una cosa interessante è già raggiunto questa quota quindi ci sarà presto questa biblioteca più o meno hai una previsione di quando potrai trasferire libri nella nuova sede? probabilmente saranno spostati entro i primi d'aprile fine marzo li spostiamo fine marzo si sposta tutto fine marzo deve essere finito l'annesso perché deve venire una studentessa dell'università di scienza gastronomica a vivere lì diciamo a stare lì a studiare lì per cui quindi poi dovrai fare delle giornate dedicate a chi vuole venire a visitare la biblioteca insomma è sempre più impegnativo ok però insomma è interessante le persone ti aiuteranno a completare la cosa tu però dai sempre qualcosa in cambio il tuo crowdfunding prevede un sacco di ricompense fighissime ho visto in tanti che dicevano ah ma ti voglio venire a trovare voglio sapere se fate una bella come lo sostenete lui ricambierà come? allora ci sono ancora sia i barattoli di fagiolini in agrodolce cipolle in agrodolce c'è lo zafferano mezzo litro d'olio ma perché di olio non se ne è fatto tantissimo se ne avevi perché il crowdfunding devi sempre contare no? quante quante ricompense posso dare se io faccio cinque litri d'olio lo do a che ne so venti persone perché poi l'olio è finito per cui ho fatto i mezzo litro perché era una cosa più di appunto riconoscimento e poi c'è abbiamo aggiunto le magliette e le shopper in cotone perché avendo raggiunto i quattromila abbiamo ragionato anche un po' in casa così parlando vabbè mettiamo due ricompense in più perché magari così uno un po' si invoglia no? e c'è stato più che altro la cosa che c'è stata è che chi aveva già sostenuto il progetto ha detto ah ma io la maglietta la voglio allora ha ridonato ha ridonato non era quello l'intento però vabbè poi c'era sia come ricompensa anche quella del pranzo con visita alla scoscesa e e poi le insaviti o ce n'è ancora qualcuno? credo che ce ne siano ancora ce ne siano ancora qualcuno non ho riguardato oggi perché oggi sono state varie donazioni e poi c'è il fatto di venire a stare qua un fine settimana o un fine settimana e godersi il chianti oppure il fine settimana è godersi il chianti con un'introduzione alla permacultura per due persone questa ricompensa e oppure c'è un sopralluogo da parte mia con consulenza o una consulenza online quindi diciamo ne ho messe varie sì ho voluto differenziare e effettivamente ho visto che c'è chi magari ha fatto quella quella donazione da 200 300 euro e c'è chi giustamente ha comunque avuto una ricompensa anche con 15 18 euro con 20 euro che è comunque una somma non indifferente e devo dire la verità sono state tantissime le donazioni senza ricompensa che è una cosa che veramente mi ha è un riconoscimento molto forte dalle persone ci sono state anche donazioni che persone mi hanno scritto dicendo guarda io ti posso dare solo questo e ti fa capire anche l'importanza di creare una rete di creare una comunità perché ci sono persone magari veramente hanno detto guarda ti posso dare anche solo 5 euro ma li voglio dare perché mi fa piacere sostenere il progetto e non c'è una differenza di valore insomma nella quantità è proprio il gesto che è veramente significativo ok no no sono sono contenta davvero che ci sia stata tutta questa attenzione verso il tuo progetto noi verremo da te a pranzo perché abbiamo è vero saremo venuti lo stesso non c'è senti ti faccio un'ultima domanda scusa Filippo voleva chiudere ma mi interessa rispondere ancora a una domanda Stefano se uso un cippato di castagno per pacciamare il tannino presente che poi va nel terreno dove coltivo danneggia le piante coltivate si deve usare un altro tipo di cippato questo è importante i tannini le sostanze particolari allora noi fermentiamo castagne ghiande e querce anche i rami e le foglie per estrarre i tannini per darli come trattamento fogliare alle olive ora ci sono vanno molti distillati di legno per dare i trattamenti fogliare a tante alberi da frutto olive e non solo perché di fatto si danno i tannini perché i tannini stimolano una serie di processi una serie di cose nel suolo creano problemi io ci proverei no ma io ci proverei sapete perché io ho sempre sentito la storia che il noce è all'elopatico io ho un noce nell'orto su una terrazza e quest'anno i peperoni ci crescevano proprio bene cioè addirittura qualcuno mi ricordo una volta disse che le querce erano all'elopatiche io ho tutti gli orti sotto le querce dovrei essere sull'astrica dovrebbe essere io consiglio sempre di provare noi abbiamo incontrato proprio ieri un ragazzo che ci ha fatto vedere anche proprio le immagini delle sue aiuole tutte facciamate di foglie di quercia ma lui era soddisfattissimo del risultato assolutamente una cosa sui tannini una cosa sul cippato da notare il cippato proprio perché è lignina blocca molto l'azoto nel suolo quindi se avete un suolo povero di azoto come ce l'ho io come ce l'avevo io alla scoscesa quando ho messo il cippato ho fatto danno non erano i tannini perché quello era un cippato di olive ma il poco azoto che c'era veniva tutto catturato e bloccato per cui quello sì consiglio di guardare che tipologia di suolo abbiamo ma in sé secondo me il tannino da anni non ne fa ok va bene dai adesso ti lascio andare tra l'altro tu in genere a quest'ora sei più o meno già andato a dormire perché la mattina ti alzi prestino prestino per studiare sì perché appunto perché leggo tanto per cui diciamo alle 4 mi sveglio ok leggi la mattina insomma va bene sai qualcuno ci aveva chiesto dice consigliaci dei libri non te lo chiedo perché sarebbe se ce ne hai uno al volo per chiudere che ti viene a mente una lettura non importa se non c'è consigliaci dei libri non lo so dipende su che argomento no dipende su che argomento un libro che secondo me ispira tanto e lo vorrei dare in italiano così ne troviamo uno in italiano perché secondo me ah intanto se volete leggervi un libro che io reputo il più bel libro sulla permacultura in italiano è un librettino che si chiama permacultura per tutti di Patrick Whitefield è un libro introduttivo però se vostro zio vostra cugina dice ma che sta a fare permacoltore ma che sta a permacoltura vi prendono in giro regalategli 12 euro questo libro qui permacultura per tutti facile da leggere e vedrete che rimarranno comunque colpite e colpiti per cui assolutamente benissimo ottimo consiglio conclusivo grazie Lorenzo vai buonanotte Filippo mi ricorda di iscrivervi al canale e di mettere un like assolutamente assolutamente ciao buonanotte ciao ciao buonanotte ciao grazie ciao grazie a voi grazie a tutte e tutti